Musica Bene, allora andiamo a fare la nostra missione visto che non possiamo aprire la tomba senza il nuovo congegno quindi facciamo prima sta missione e poi vediamo di esplorare tutta la spiaggia ok allora lì là, sì perfetto, qua c'è niente ok andiamo qua in alto materiali non c'è niente qui? no ah, ha riconosciuto la marca per così dire eh? appena l'ha vista ok opla eh la madonna fammi pensare la radio è anduta da ora siamo isolati con il fratello com'è? adesso come cazzo facciamo? intenta sta zitto un secondo fammi pensare sta succedendo qualcosa la montagna si vede dentro di una ehi o può essere qualsiasi cosa ci muoviamo quando fa buio ma sicuro ci convenga forse dovremo aspettare qui fino al prossimo turno dovremo aspettare in eterno qualcosa non va fratello prepara la tua roba si parte al tramonto si c'è gente anche qua ma dimmi te cosa ci fanno qui dov'è l'altro? ah forse è di sopra ah eccolo la ok ah no è andato giù volevo raccogliere vabbè vabbè qua non c'è niente ok sopra cioè cosa ci fanno qui mi chiedo io non è un bel posto eh voglio dire per accamparsi sto relitto ah devo andare proprio qua è segnato di bianco invece no almeno credo dobbiamo andare là no non ci fa andare che botta le morti sono particolari realistiche vabbè aspetta aspetta che se parlano poi si accorgono di me io non posso fare nulla qua mi ha salvato si ma può essere qualsiasi cosa si ma sicuro ci convenga forse dovremo aspettare qui fino al prossimo turno dovremo aspettare in eterno qualcosa non va fratello prepara la tua roba si parte al tramonto ok ah perché se se li interrompo mentre parlano sicuramente si accorgono di me beh almeno adesso ne approfitto e faccio così guarda ecco vediamo se se non cade no accade lo stesso e vabbè pazienza no allora scusa eh ma io pensavo bisognasse andare lì sul sull'albero diciamo ma forse si adesso vediamo dove ci indica il nostro la nostra interfaccia ah dovevo dovevo illuminarlo cioè dovevo colpirlo devo ah ecco vedi eh ma c'era un motivo del perché era bianco l'albero eh eh tutto in tasca ovviamente torna da Jonah con il paranco ehi ecco dai zitto ma dove dove sbucate non ci credo eh ma forse è rimasto solo lui eh adesso vediamo allora porca vacca siamo presi insieme però ho vinto io va bene veniva impiegato dai calligrafi della corte imperiale cinese una piccola incisione indica che apparteneva a un ambasciatore imperiale ah va bene ok dammi torniamo rapidamente alla spiaggia ok quindi qui ok possiamo andare bene ok vediamo se otteniamo una nuova nuovo strumento grazie problemi alex ancora non si è visto aiuto aiuto questo è Whitman infatti ma lasciatelo morire in quanti sono non so sei ferito? non ho visto nessuno li avrò spaventati non sapete quanto ho corso senza la minima goccia di sudore sono più in forma di quanto pensavo si certo li avrei portati qui da noi proprio come al palazzo cosa? non è andata così Lara mi avevano preso mentre tu cercavi Sam che storia è mai questa? dicevano che altrimenti avrebbero ucciso te e gli altri io ho provato ad avvisarti non mi sembra il momento sentite non so che problema abbiate a dire il vero neanche mi interessa beh volevo solo senti un'altra parola e giuro che ti spacco quei costosissimi identiti basta smettetela o restiamo uniti o sarà la fine hai ragione chiudiamo qui è molto meglio ok? vado a cercare Alex dove sono quegli attrezzi? in sala macchina comunque non è uno sproveduto Lara bene vuol dire che faremo prima però lui francamente non mi ricordo se è un traditore o meno ma certamente la parte del traditore la copre a pennello prendi quest'arco l'ho tenuto apposta per te e là sembra potente può conficcare le frecce praticamente ovunque grazie Gian quindi abbiamo l'arco moderno adesso ok arco avanzato ok modificava da arco di curvo da arco avanzato andiamo un po' è che non potremo potenziarlo ma possiamo potenziarlo frecce al napalm addirittura frecce incendiare che è un muro di fiamme all'impatto che è solo questo possiamo fare però sembra devastante ok ok e non abbiamo materiale la endurance è incagliata oltre quella scogliere userei quel nuovo arco per raggiungerla forse su quelle rocce oltre il molo ma dove ah di là eh però abbiamo l'arco nuovo ma per la tomba forse non è questo lo strumento non me lo ricordo francamente fammi provare giusto per curiosità perché era la qua vediamo non penso eh perché manca è nove non posso ancora farlo no manca qualcosa manca comunque qualcosa adesso vediamo intanto ma i granchietti facciamo la missione va perché non ho quello strumento acco avanzato colpisci le superfici scalabili ah vedi con frecciacorda vedi adesso le superfici scalabili posso sulle superfici scalabili posso conficcare le frecciacorda infatti ok ok questo è qualcosa di nuovo che prima non potevo fare ok ok raggiungi l'endurance mi avvicino l'endurance che ti serve di preciso Alex stavamo iniziando a preoccuparci mi serve una barra lunga il resto del mio kit altrimenti non potrò riparare la barca ok ci penso io Lara ti sta raggiungendo aspettala Lara no no mi arrangio vado manteniamo il silenzio radio Alex che stai facendo questo è per tornare indietro eh no aspetta volevo capire se era per tornare indietro o c'era un qualcosa ah si si vedi si è per tornare indietro di qua ok ok qua ah ok non l'avevo visto cioè ci avevo visto pensavo fosse una cassa cioè non interagibile ecco ok andiamo devo andare là in alto che succede la sua la donna ha ucciso uno dei russi non solo non solo quando fuori anche i miei piccolari beh moris lo sa appena scopre che i suoi fratelli sono morti oh pensa a te e non m'hanno visto siete piuttosto ciechi eh eh ok io volevo vedere cosa c'era di qua prima e qua c'è un'altra un'altra strada è questo è una mina ci arriviamo no forse da qua no no non si arrampica no vediamo un po' vediamo un attimo di qua mi sembra strano ok abbiamo il terzo componente il fucile automatico ma mi sembra strano vabbè non può essere una via secondaria però eh no si si non c'è niente mi sa che finisce qua eh già vabbè ah guarda lì aspetta ok ok e adesso primo accampamento aspetta rimetto le frecce normali allora dobbiamo salire salire ah guarda anche di lì ok abbiamo fatto un giro ma eh no siamo sbuccati di qua no ok allora saliamo ah no ah non si sale ah non di qua eh cioè qua allora si scende forse però che strada devo fare allora scusa ah qua guarda ok ah no no si sale proprio ok solo che non si sale da sotto ma da un po' di lato vabbè ok qui niente oggi eh qua devo sparare col fucile ma eh non posso cioè andiamo di qua andiamo di qua aspetta fa vedere ok raggiungi il relitto dell'endurance va bene eh eh Ho perso il controllo Questo posto mi nervosisce Ok Ma cerca di controllarti Vedi di non rompere anche Capito? E ammazzo pure te Ok calmo Ok aspetta Se si girano Non si girano Allora li faccio girare io No Non si girano Di f*** Cos'era? Ok 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 Ma segna qualcosa C'è un'altra tomba Mi sembra strano Due tombe Io vado di qua ovviamente Che fosse proprio un poggiatesta Oppure faceva parte di un manofatto più grande Ci penserò se e quando lascerò quest'isola Poggiatesta Ok Andiamo Minizioni Ok Mi sembra strano Due tombe Nella stessa area Però Eh perché non Non me lo ricordo Vediamo un po' Ok Qua c'è un altro Tesoro Una bambola Cosa c'è? C'è un nome sull'etichetta Millie Eh Va bene Si apre Aspetto Materiali Ma questo Più che tomba Mi sa che è un bunker No? Sembra Tombe opzionale Segreta Inondata Va bene Intanto Fucile da comando Da fucile d'assalto Fucile da comando Ammazza Vediamo Cosa sblocchiamo? Granata frammentazione Che comunque è sempre una K Va bene E E E E' questo Mirino Aumenta Il fattore di ingrandimento Va bene E silenziatore Ok Cosa che però E' che mi interessi No Prendiamo Qua Le Frecce al napal Eh Ok Vediamo un po' Qua dove sono arrivato Qui è chiuso Faceva parte della base scientifica Che fossero qui per indagare sulle tempeste E parla Diciamo dei nazisti Anche se Si parla dei giapponesi C'è ancora corrente Come è possibile? Allora c'è Aspetta Forse ho aperto la porta Acqua Acqua Troverò il modo di superare l'acqua Questo si può bruciare Ah è così questa Oh aspetta Oh aspetta Guarda Di là Ok Qua Cosa si può Dove che era? C'era un Aspetta Eccolo lì Forse devo fare così Ah 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 Aspetta Aspetta Mi sa che devo fare così Guarda La tiriamo qui Vediamo se arriva Magari Forse anche qua Vediamo Non lo so Dire la verità Però Vediamo Vado qua La dovrei Tirare qua In teoria A meno che No aspetta A meno che Faccio così La Ok Qua non c'è niente Qui è bloccato Qua non c'è niente Aspetta Scusa eh Aspetta La tiro in qua Aspetta Ok Veloce 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 Ok Eh ma io devo andare lì Come faccio Aspetta Aspetta C'è Devo andare là Ma se io questa La porto qua Forse ci arrivo Là ci sarebbe una scala Però Ah no Che stupido Aspetta No no ci sono Ci sono in realtà Perché Aspetta Aspetta Dobbiamo Ho capito Ho capito Solo che L'ho capito Adesso No Eh no Aspetta Facciamo Così Questa mi aiuta Poi facciamo Ok Poi da qui La tiro Così Ok Ecco Così Non tocca L'acqua Io posso andare In acqua Tranquillamente Eh Non bisogna andare Da qua Ma Dei l'acqua Sono delle scale Ok Un magazzino E manufatti Da una tomba antica Cosa stavano cercando Sì Diciamo che qua Forse Hanno costruito Sopra una tomba Forse Ma neanche Perché Boh Tutto È più un bunker Che tomba In questo caso Perfetto Punto abita Tomba saccheggiata Però ci manca L'altra Aspetta Punto abita Lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo Vediamo Qua magari Contrattacco migliorato Il contrattacco in schivata Diventa ancora più letale Uccidendo un istante Quasi tutte le tipologie Di nemico Ok Premi B Per schivare Poi premi Y Nel momento giusto Per uccidere Quasi tutte le tipologie Di nemico E questo Mi sa che è al massimo Esatto Un battimento al massimo Ottimo Adesso Lasciamo pure Lasciamo pure di qua E proseguiamo Da dove Ci eravamo Fermati Quindi Quindi si Mi sa che ha messo Due tombe vicine Vabbè Ma non me lo ricordavo Sto fatto Sto fatto